Gian Battista Totis, il PD ha organizzato questo forum dei beni culturali nei tre comuni simbolo dell'area industriale siracusana. Qual è lo scopo? Allora, lo scopo è quello di aprire un momento di confronto con tutti coloro i quali operano nel territorio, a qualsiasi titolo, a qualsiasi area appartengono, perché questo clima di separazione che vive la città va superato in positivo utilizzando tutte le risorse che ci sono, tutte le opinioni politiche, perché la situazione che adesso è diventata, come direi, la tante del castello è solo una delle tante che vive il nostro territorio. Questo forum che non nasce in coincidenza alla vicenda del castello, ma il forum è stato impostato già da tempo perché è una metodologia che ha scelto il PD che io considero estremamente positiva, che è appunto quello di far parlare il territorio, di far costruire nel territorio quelle risorse, quelle sinergie utili per spingere la politica ad occuparsi delle cose di tutti, perché la politica da molto tempo parla di se stessa, con se stessa, come se non rappresentasse i cittadini. Allora, questo è un tentativo di dare voce a quelli che già esistono, a quell'articolazione della società che è fatta dalle centinaia di associazioni di persone che hanno sentito il bisogno intanto di riunirsi, allora questi hanno dignità politica e debbono essere riconosciuti come interlocutori. Questo è il tentativo, quello di spingere tutti a concretizzare, oltre che grandi idee fantasiose, un percorso concreto che porti a soluzione almeno qualcuno dei problemi, perché noi siamo abituati ad affrontare tutto in termini generici, generali, di lamentazione, ma quasi mai si operano, si mette in campo un percorso di concretezza che porti a soluzione almeno uno dei tanti problemi che abbiamo.